Non conosco alcun processo di saldatura che assicuri un risultato valido come questo. Tale giunto in titanio è stato ottenuto mediante lo sfregamento di due barre a 40 Hz. Tutto questo è possibile grazie alla LFW Fixture. Il processo è green e non prevede metallo d'apporto. Si possono saldare materiali differenti ed ottenere elevate prestazioni. Il progetto è durato più di un anno. Siamo partiti dallo studio del processo. Io mi sono occupato della programmazione, delle attività di progettazione e produzione. I modelli CAD della LFW Fixture sono stati validati in ambiente FM multibari. Nonostante l'attrezzatura sia a carattere sperimentale, essa è corredata di marcatura CEI. LFW Fixture è un'attrezzatura sperimentale che permette di realizzare la saldatura di due barre metalliche in una forma AT. Il processo necessita di due attuatori idraulici. In particolare un attuatore trasversale può arrivare a una frequenza di addirittura 60 Hz. Mentre l'altro attuatore comandato in pressione può raggiungere fino alle 10 tonnellate. Linea Fiction Welding è un impianto particolarmente semplice e soprattutto compatto. Cioè un impianto trasportabile che può essere installato su una qualsiasi macchina portata. Quello che ci si aspetta da questo tipo di tecnica è giunti e senti da difetti quali porosità, clicchi di solidificazione ed altro. Quindi alla fine manufatti con elevate prestazioni meccaniche. Quindi secondo noi l'LFW può essere parte di un ciclo, un ciclo chiaramente innovativo, dove con il concorso di altre tecnologie afferenti al dominio delle Time Compression Technologies posso affinare un contributo in termini di risparmi di tempo e di costi rispetto alla produzione. Le ambizioni per poter andare sul mercato sia ai fini della produzione sia per mettere in linea quelle che sono le valutazioni di simulazione sviluppate sicuramente ci danno grandi, grandi speranze. Al momento l'idea che sta prendendo forma nella nostra mente è quella relativa a una possibile ibridazione delle competenze, conoscenze e tecnologie con quelle appunto dell'LFW. Una macchina che si è dimostrata capace di ottenere tutti i saldati rappresentativi di componenti di medie dimensioni con buone caratteristiche di resistenza meccanica e metallurgica.